verso mendrisio verso gallarate segnale verde la stazione suona la campanella dei treni da mendrisio suona la campanella dei treni da mendrisio segnale verde verso gallarate verso mendrisio siamo in stazione ad albizzate sulla linea ferroviaria internazionale gallarate mendrisio suona la campanella dei treni da mendrisio segnale verde l'ex ufficio del dirigente suona la campanella dei treni da mendrisio suona la campanella dei treni da mendrisio verso gallarate segnale verde verso mendrisio è lunedì pomeriggio siamo a maggio suona la campanella dei treni da mendrisio siamo in stazione ad albizzate sulla linea internazionale mendrisio gallarate il primo binario i treni verso la svizzera il binario due i treni verso gallarate suona la campanella dei treni da mendrisio suona la campanella dei treni da mendrisio verso mendrisio verso gallarate segnale verde è lunedì siamo a maggio è lunedì Il segnale è ritornato rosso, verso Gallarate, segnale rosso, verso Mendrisio. È appena passato un treno Reggio Express, proveniente da Porto Ceresio e diretto a Milano. La stazione. La stazione di Albizzate sulla linea ferroviaria internazionale Mendrisio-Gallarate. È appena passato un treno Reggio Express da Porto Ceresio per Milano. La stazione. È lunedì, siamo a maggio.